Sempre che si riesca a far finire questo primo tempo Da metà campo ci prova Col mancino Arbitro di merda Tra un paio di settimane cominceranno finalmente le olimpiadi di Tokyo 2020 Che poi 2020, siamo nel 2021 ma sono successe cose E proprio per colpa di queste cose non meglio specificate Non solo le olimpiadi sono state rimandate Ma anche il videogioco delle olimpiadi è stato spostato al 2021 E' uscito soltanto un paio di settimane fa E secondo voi mi perdo l'opportunità di provare un gioco trash del genere? Assolutamente no! E poi magari neanche trash è del nuovo capolavoro Mario e Sonic spostatevi proprio Prima di cominciare però ci tengo a ricordarvi Che tutte le sere tranne il sabato alle 7 sono in live sul mio canale Twitch Trovate il link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto Tra l'altro stasera andrò a giocare proprio al videogioco delle olimpiadi Quindi mi raccomando vi aspetto Lasciate un like se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E ora via con lo sporto! E' altamente consigliato l'utilizzo di un controller Va bene dove ce l'ho il controller? Aiuto in casa nuova! Io non vorrei essere critico di un titolo che non ho ancora iniziato a giocare Ma almeno i 60 fps nella clip iniziale Non chiedo moltissimo eh Cioè sono le basi E come primissima cosa da fare non ci resta che modificare il nostro personaggio Mio dio quanto sei generico fra Oh mio dio ma posso davvero gestirlo sotto ogni punto? Meraviglioso Ok panzone 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 Non troppo alto però Vai così Muscolo Eh metà Mamma mia Oh mio dio ma quanto mi rappresenta quest'uomo Vai 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 seleziona seleziona Va la birbauch La banzetta da birra quant'è bella Oh mio dio ma è incredibilmente customizzabile Anche troppo forse Cosa vuol dire inverti i capelli? Ah ok Il lato del ciuffo Pensavo tipo gli li mettessi sotto sopra Non avevo capito Dov'è l'opzione calvo? Non c'è Ah eccola qua Ma che bellomino che sei Raga è davvero troppo customizzabile Mi sento perso E che mi sto limitando a scegliere dei preset Ma guardate quanto popò di roba c'è per ogni singola parte del corpo Ah yes mi sono tatuato il gatto sulla guancia Come se fosse la classica lacrima che hanno tutti quanti trapper Però così mi sento un pochettino Cioè troppo over rappresentato Non va bene Bene La modifica è stata terminata Il nostro Tearless Raptor è ufficialmente pronto a battere tutti i record mondiali Gareggia per le medaglie Gioca in locale oppure online fino a 4 giocatori Cosa? Meraviglioso E madonna quante opzioni 100 metri Baseball Pallacanestro 110 ostacoli Minchia ma siamo pieni Già sto amando Oh no ci saranno dei quick time event per andare ancora più veloci Ciao Ho già perso Siete pronti a battere il record del mondo? Chi vincerà tra Hsu Yilmaz Quinn Kruger Rao Albu Chung E Tearless Raptor Mamma mia quanto ci sta male quel nome Ma guardalo che ridicolo che sono Ce la faranno se non è a battere un record del mondo? Oh Vai 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 Mamma mia guarda come scatta Guardalo Mamma mia Battuto il record mi sa 9 e 2 9 e 2 Andiamo Nuovo record del mondo così Alla prima gara Scherzi Quale panza Madonna Raga ho asfaltato chiunque 9 e 277 Gli altri sono arrivati tutti quanti 4 secondi dopo Ciao Ah ma quindi c'è una sorta di rivalità tra me e Kruger adesso Il prodigio contro la Fenice Ho già vinto Mi dispiace ma ho già vinto Oh shit ora tocca al baseball Oh boys Ho i traumi di Wii Sports Mi riprenderò Partita da training Ok grazie Volevo proprio chiedere quanto sarebbe durata Perché non volevo star qui a fare un'intera partita da 9 E partiamo con Italia Svizzera Ah ma così Così semplice Proprio easy peasy Devo soltanto battere e basta io Vai palumbo Dai signorina palumbo Eh vabbè Quanto abbiamo girato a vuoto Bella palu Sembrava perfetta per andare fuori campo Quella ma tant'è Oh dritta al centro Oh Bastardo era una curvazza Oh mio dio Ho girato prestissimo Sior Leone Dai Eleo No Vabbè Il giro vuoto No Mamma mia 3 battitori 3 out Che schifo Che schifo Dritta 4 cuciture Nell'angolino in basso Mamma mia Che palla Tirless Raptor Eroe Ora vai con lo splitter Alla show Io Tani Oh Non ho ancora capito come si lanci Ma tant'è Ah autodifesa No Non voglio l'autodifesa Voglio giocare in difesa io Oh Ma non serve la difesa Perché c'è lo strike out Mamma mia raga Quanto è bello giocare a baseball Voglio giocarci in real life Uè Zedda Piras Uh Validozza No Out al volo Ci ho provato Ci ho sperato Mi sta fregando Oh cazzo Ciao Palamo Eeeh Vabbè Come non detto Però avevo girato bene Solo nel momento sbagliato Eh Troppo bassa Che pepegotta O comunque il mio personaggio Il lanciatore C'ha il classico fisico Da giocatore di baseball Dopo big sexy Bartolo Colón Abbiamo large attractive Tearless Raptor Figa perché Schmidt Sembra assolutamente Jake Paul Corri 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 Ok Grazie bello Bella lì Col bant decisivo Per il punto a casa È salvo Salvo in prima 1-0 Italia Mamma mia Lo scatto decisivo Del mio seconda base Mamma mia Un altro bant decisivo Per un 2-0 Va bene C'è l'out in prima Ma c'è il 2-0 Big boy È pronto il big boy Che fuoricampo Cazzo però Che sleppa Fra bravissimo Oh cazzo Yes C'è la vittoria Tutta quella panza Tutta quella tracotanza Ci porta a vincere È bravo il nostro uomo Ah è moto cal calcio Bello il gioco Del palone Oh dai Italia e Svizzera È finita 3-0 All'europeo Vuoi che nel videogioco Degli olimpiadi Non si riesca a fare meglio Come si entra in Scivolata di potenza Mamma mia O comunque Uguale alle meccaniche Di Mario e Sonic Il calcio Il palo Mio dio È macchinoso È sfacca I giocatori si muovono Con una lentezza Una rigidità E lungo dei binari Preimpostati Che Non riesco a Aiuto No raga È troppo strano Sto gioco Non ce la posso fare Bravo Buon recupero palla Ci prova dal limite Mamma mamma E come fallo Arbitro No Non così Che l'hai spazzata Cretino C'avevo anche il super tiro Eh vabbè Lo possiamo usare nel secondo tempo No Sempre che si riesca a far finire Questo primo tempo Da metà campo Ci prova Col mancino Arbitro di merda Sapete cosa Il 4-3-3 Non sta funzionando Proviamo col 3-5-2 Magari aiuta un attimo Perché può svariare Più sul fronte offensivo Il nostro uomo Che cazzo sto dicendo Signorina però Signori Mamma mia Comunque i giocatori Vanno ovunque Tranne che nella direzione Che gli viene chiesta Ma prendila Sta cazzo di palla Ma si può correre Con R1 Ma lo scopro adesso Che cretinotto Oh comunque Mario Strikers Charged Non è male come gioco Eh cioè me lo ricordavo Più brutto Vai il difensore Invece 3-9 Fra Mi sono auto-ucciso Il giocatore Rientra sul destro Calciala Ma un altro palo Ma non ci posso credere Ma come fallo Arbitro Dai Rassonato sulle caviglie Non gli ho rotto Neanche un osso Cosa vuoi che sia Attenzione Ci prova Basta Che succede Ma ho supplementa Supplementari Vabbè Mamma mia che giro palla Il Barcellona di Guardiola Could never Ma non passar palla Lui Cretino Dal limite Falto La signorina Ce l'ha fatta L'ha piazzato All'incrocio Di cattivedia Non so ne come si chiami Ma che tega All'incrocio GG Oh no Ora c'è il super tiro lui Ocio perché lo sfrutterà Basta chiamare fallo Quando entro Soltanto sulle caviglie Quello è consentito Da regolamento E lo sappiamo tutti Ocio Ocio Che c'è l'uomo libero Ok ok Angolo 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 Va benissimo Era il loro primo tiro in porta Quello Esci mi portier Brava portier No Dai da metà campo Ma frate Ma come angolo Quindi qualcuno era stato ucciso lì Cross È bella merda il cross Non ha preso nessuno Numero 4 È la nostra ultima opportunità Credo in te Vai numero 4 Non farti rubare No Ho rischiato un autogol Hai rischiato un autogol Più stupido e pepegotto Della storia Ma si è salvato al pelo Ci tocca andare ai rigori Ottimo Andiamo a sinistra Bravissimo portier Si fa perdonare L'errore di prima Mamma mia Impeccabile Dal dischetto Qua andiamo a destra A destra ho detto Dritto per dritto A destra di nuovo È vinta? No Non ancora La portiera Salto in lungo Primi X per andare veloce E poi devo Oh no Devo angolare le cose con il controller Raga è un controller Che ho pagato 10 euro 5 anni fa Non prenderà mai L'angolazione giusta Veloce come il vento Cacciao 4 metri e mezzo Ma cosa esulti Pirla Ma sei tipo Ultimissimo Più veloce che puoi Più veloce che puoi Più veloce che puoi Più veloce che puoi Gestire io A metà Ma pensavo bastasse Flicca Ma dimmelo prima Devo semplicemente Puntarla dopo Che ho saltato Ma allora Oh visto Questo è un cazzo Di salto Ho saltato anche Con 30 centimetri Di anticipo Potevo arrivare A 7 metri e mezzo Guarda che l'ho vinta Sei così in vantaggio Che il tuo avversario Non può recuperare La squadra di tele salto È stata dichiarata Da vincitrice Ok possiamo comunque Continuare con le altre gare Ma come no Ma che bullshit Ma che bullshit Cosa possiamo provare a fare Dai Ancora un paio di garette Facciamoci Direi di fare Il lancio del martello Perché ce lo vedo bene E Pinghe ponghe Pinghe ponghe sia Ok non sembra facile Ma ce la possiamo fare A farcela Ed è una sfida Contro la Slovacchia Ok Tieni il martello Inizia a girare Ok non è facile Non è facile 62 metri di Morris Ok Li possiamo battere Li possiamo battere My man Hai anche Il fisico adatto Che cazzo ti urli però 70 metri Ok siamo davanti a tutti Ma mi sa che il record mondiale È di 84 E passa Uff Ma do che merda di lancio Il lancio migliore e peggiore della gara ho fatto Ma è bastato per vincere Ma non dirlo così forte Al servizio Il prodigio What the fuck Raga è difficilissimo questo Perché devi muoverti con la racchetta Ma che cazzo Perché devi muoverti con entrambe le levette Una è per muoversi Una è per ricolpire la palla indietro Non ci sono abituato a sta cosa Frate Casino Non ce la si fa Ma è troppo brava È troppo brava Madò Oh yes Finalmente un punto Cazzo Che parto Figa Ora devo rimontare dal 4 a 1 Ce la si può fare Oh 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 Ma io le ho premuti i tasti comunque per fare il super tiro Cioè non lo fa Ah finalmente l'hai fatto il colpo speciale Oh è stato difficile fare il super tiro Oh cacchio Ma ce la lei Oh la risposta è il super tiro E poi mi faccio fregare sul tiro subito dopo La signorina Almasrawi Proprio come Lucia Diventa imbattibile dopo un tot Eh Eh Mio dio odio il ping pong No Io e questo sport non andremo mai d'accordo all'interno dei videogiochi Proprio zero E facciamoci una partita alla palla di canestro Wow Poi perché l'Italia è sempre rappresentata col colore verde? Mi dà fastidio L'Italia ha la maglia blu in qualsiasi tipo di competizione Com'è che si fa saltare a rimbalzo? Fra Oh Mamma mia Più scorrevole di NBA 2K Uh Come si va a rimbalzo? Ancora non l'ho capito Ma che bella la tripla Precisa E tira coglione Eh bello Uff Momin ti entrava da fondo campo Ma davvero abbiamo fatto soltanto un canestro a testa nel primo quarto E poi nel secondo neanche Difendi bene Eh 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 Tre secondi spalla canestro Le regole base Bullshit Mamma mia Mamma mia Che giocatore signori Non so neanche mi faccia correre con quella massa nel corpo Incredibilmente accurata per la mia persona Io in reale faccio un metro di corsa e c'ho il fiatone Casa nuova c'ho le scale Oh Casa nuova c'ho le scale C'ho il fiatone ogni volta che le salgo le scendo Figa Comunque dopo aver detto Eh ma non abbiamo fatto un cazzo in questo quarto Subito dopo Siamo tornati Alla grande Un'altra tripla Otto punti Due triple E un lay up per il nostro big boy Gestiscila con calma Gestiscila piano Oh oh Non credo che sia legale fare una cosa del genere sai Ma non è una schiacciata La lancia dentro Finisce la partita contro la Colombia Grandi che abbiamo vinto Questo gioco è trescissimo E ne voglio ancora Quindi mi raccomando Questa sera In live alle 7 Vi aspetto E ne voglio ancora E ne voglio ancora E ne voglio ancora E ne voglio ancora Eccomando